...e di un vero... ...mai da haste... ...e di 50, eh? ...mhm... ...oh... ...non è meglio la fanno... ...a che vecchia va più da... ...la fanno, eh? ...quindi che ti punci, ma c'è il burcio lungo, c'è... ...ma fa prendere il burcio ...como si testando? ...ce fanno... ...como e te? ...sì guarda che roba... ...tira roba ...veramente ...cosa qui è una ripresa da... ...da... ...da ...documentario naturalistico ...tra una lotta tra mostri ...guarda pure il vero ...a che cazzo come giocano ...stanno giocando ...è la ferie... ...e va sotto ...se li avevo voluto io non ci ho mai visto di là ...no, ma non gli sta facendo male... ...certo... ...dolito... 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 ...oh, questo è il gruppo ...dolito... ...dolito... ...tolito... ...oh, ha già rigirato... ...ha... ...girato... ...ma che incredibile... ...ma di solito i granchi non... Ha un paura di stare in mezzo alla gente, guarda te.